Uno dei dogmi più bistrattati, fraintesi, ridicolizzati, demonizzati della Chiesa cattolica è certamente il dogma mariano della verginità perpetua di Maria. La Chiesa insegna infatti che Maria è rimasta vergine prima, durante e dopo il parto. Questa verità di fede comprensibilmente mette a dura prova l'intelletto umano, perché ci riesce difficile concepire proprio fisicamente come questo sia stato possibile, come questo possa essere avvenuto concretamente, non solo a livello metaforico, simbolico. Per di più, in un'epoca come la nostra, in cui il femminismo esalta il diritto della donna a godere pienamente della propria sessualità, un'epoca che esalta l'edonismo e il consumismo, del quale l'edonismo è in realtà solo una derivazione, un concetto come quello di verginità perde di valore, anzi diviene un controvalore, castità e verginità diventano controvalori, diventano un segno di frustrazione psicologica, tanto che la Madonna spesso negli ambienti femministi o comunque contrarie alla fede cristiana cattolica, anziché la creatura più eccelsa viene presentata come il modello di donna da non seguire, il modello della donna umiliata, sottomessa dal patriarcato della Chiesa, che le nega ogni diritto e ogni piacere. Ovviamente noi cattolici sappiamo che tutto questo è un modo molto umano, anzi sarebbe più corretto dire molto moderno, che è cosa diversa da dire molto umano, è un modo molto moderno di interpretare questo dogma cattolico. Un grande errore dell'uomo di oggi è quello di approcciarsi a dottrine ed eventi del passato leggendoli spesso con le lenti, con le categorie proprie del nostro tempo, un errore che si fa forse da Marx in avanti. Siamo incapaci a volte perfino di concepire che forse i uomini del passato hanno potuto leggere, hanno letto il mondo con categorie differenti. Reginald Garigou Lagrange, grandissimo teologo domenicano del secolo scorso, uno dei più importanti tomisti del Novecento. Nel suo capolavoro è, oserei dire, compendio di mariologia, cioè di quella branca della teologia che studia e si occupa di approfondire in maniera specifica la figura di Maria di Nazareth, la madre di Nostro Signore, nonché madre della Chiesa, i suoi privilegi, le sue virtù, il suo ruolo nella storia della salvezza, spiega in maniera sintetica ma precisa cosa vuol dire davvero per noi questo dogma, così difficile da capire e spesso anche da accettare. Sto parlando naturalmente del libro La madre del Salvatore e la madre del Salvatore, nostra vita interiore, autentico capolavoro di Dom Reginald Garigou Lagrange, che noi abbiamo recentemente pubblicato con la prefazione di padre Serafino Tognetti, e che non solo spiegabilmente tutti i dogmi e le verità di fede che riguardano Maria, ma spiega anche come questi dogmi coinvolgono direttamente la nostra vita interiore, cioè la nostra vita mistica, la nostra vita di relazione con Dio padre. Nel capitolo intitolato Il concepimento virginale, facendo eco al suo grande maestro, cioè San Tommaso d'Aquino, Garigou Lagrange spiega perché sia stato conveniente per noi, che in quanto cristiani dobbiamo apprendere dalla storia sacra la via per la santità e per la salvezza, perché sia stato conveniente che Maria concepisse Gesù nel suo grembo in maniera straordinaria, miracolosa, cioè senza il concorso sessuale. Abbiamo detto che la Chiesa insegna che Maria è rimasta vergine prima, durante e dopo il parto. San Tommaso spiega che ci sono essenzialmente quattro ragioni per questa convenienza. Ve ne leggo solo qualcuna. Scrive San Tommaso, e Garigou Lagrange riporta nel suo testo, conviene che colui che è figlio naturale di Dio non abbia un padre sulla terra, ma un unico padre nei cieli. Ora cerchiamo di ragionare su questa frase. Figlio naturale di Dio. Ora solo Gesù può essere detto figlio naturale di Dio, perché in Gesù ci sono due nature, come sappiamo bene. La natura umana e la natura divina. Quindi per avere davvero la natura divina deve procedere direttamente da qualcuno che ha la sua stessa natura, cioè il padre che genera, il figlio. La natura umana, per avere la natura umana, deve procedere, deve essere generato da qualcosa che ha davvero la natura umana, in questo caso da Maria. Noi non siamo figli naturali di Dio, noi siamo creature di Dio e siamo, dice la scrittura, figli adottivi di Dio in Gesù Cristo, cioè per merito della redenzione e attraverso i sacramenti, noi partecipiamo della figliolanza naturale di Gesù nei riguardi del padre. Partecipiamo, quindi non ce l'abbiamo in maniera diretta. Ecco perché San Paolo dice che Gesù è mediatore. Allora questo ci fa capire che il dogma della virginità di Maria prima del parto, e quindi la maniera straordinaria con cui Cristo è stato concepito, è una prova scritturale della divinità di Cristo. E questo va per esempio contro l'insegnamento dell'Islam. Perché? Perché anche gli islamici credono che Gesù sia stato concepito nel grembo di Maria in maniera virginale, tanto che il mondo musulmano prova molta grande venerazione nei riguardi di Maria. Addirittura nel Corano c'è una sura dedicata alla figura di Maria che viene vista come una grande serva di Allah, cioè di Dio. Loro riconoscono che Gesù è stato concepito in maniera straordinaria. Però non riescono a portare alle estreme conseguenze questa tesi. Perché? Questa è proprio una prova, come abbiamo visto, della natura divina di nostro Signore. Questa è una prima ragione. La seconda ragione. Leggo. Affinché la natura umana del Salvatore fosse esente dal peccato originale, era conveniente che non fosse formata, come abitualmente avviene per via seminale, ma con un concepimento virginale. Questo è interessante perché questa ragione, questo motivo di convenienza del concepimento virginale di Cristo, confuta quello che molte confessioni cristiane, al di là della Chiesa cattolica, insegnano circa la realtà del peccato originale. Perché noi cattolici insegniamo, la Chiesa cattolica insegna che il peccato originale viene trasmesso da padre in figlio. Proprio per via seminale, una tara genetica vera e propria che influenza non solo l'anima, ma anche il corpo. In Gesù questa catena viene interrotta, anzi in realtà viene interrotta in Maria, perché Maria nuova Eva, come Eva, è stata concepita, priva di peccato originale. E Gesù, novello Adamo, viene concepito senza peccato originale. Quindi in questo prodigio c'è l'interruzione di questa catena peccaminosa. E ci sono queste due figure strettamente legate da questa assenza di tara, di peccato originale, che ovviamente rende il loro merito infinito agli occhi di Dio. Però la Chiesa dice che Maria è rimasta vergine anche durante il parto. Qui davvero c'è la sfida per il nostro intelletto, per questioni proprio, capite bene, fisiologiche, per quelle questioni fisiologiche che si verificano durante un parto ordinario. Tuttavia non dobbiamo pensare che questo dogma sia contro ragione. Se crediamo che l'uomo è macchiato dal peccato originale e che tale peccato ha ferito, appunto, non solo l'anima ma anche il corpo, non abbiamo difficoltà a pensare che Maria, in quanto è stata esente dal peccato originale, abbia avuto un corpo perfetto, tale da preservare in qualche modo la virginità anche durante il parto. Ovviamente se non si accetta la dottrina cattolica del peccato originale e delle sue conseguenze, tutto questo è molto difficile anche soltanto da concepire. Per coloro che credono nella parola di Dio, Darigou Lagrange giustamente menziona Isaia, dove leggiamo la vergine concepirà e partorirà un figlio. E così dicendo, Isaia profetizza che la vergine rimarrà tale anche durante il parto. Questo allora diviene un'attenta analisi anche una grande apologia della dottrina cattolica del peccato originale, un'altra grande apologia di questa verità fondamentale. Ovviamente rimango, capite bene, all'interno di un pensiero cristiano, perché è ovvio che chi si dice ateo non accetta proprio le premesse di questo discorso, e va bene. Però nell'ambito di chi ragiona con le categorie cristiane, ci sono molti cristiani, appunto, come ho detto prima, che non accettano proprio il dogma del peccato originale. Penso agli scismatici orientali, i cosiddetti ortodossi, che sono di fatto semi pelagiani, cioè credono che il peccato originale sia una colpa riguardante solo Adamo e Eva. Quindi tutti gli uomini da Adamo e Eva in avanti non abbiano ereditato, secondo la loro dottrina, il peccato originale, ma hanno ereditato semplicemente gli effetti, le conseguenze di quella colpa, come la caducità, la malattia, eccetera. Se questo è vero, allora non solo Maria è immacolata concezione, cioè non solo Maria è stata concepita senza il peccato originale, ma tutti gli uomini sono di fatto immacolati, cioè nascono senza il peccato originale. Ebbene, il dogma della virginità di Maria durante il parto dovrebbe far loro riflettere, cioè dovrebbe farli interrogare perché Maria è stata privilegiata nella natura in questo modo così straordinario, è semplicemente un prodigio di Dio. Evidentemente questo fatto è segno di una natura diversa di Maria rispetto agli altri uomini. Attenzione, parlo di natura umana, cioè mentre in tutti noi la natura umana è corrotta, in Maria la natura umana è rimasta quella precedente alla caduta, prelapsaria, dico i teologi, precedente alla caduta originale. Maria fu privilegiata in tal senso proprio in virtù del suo essere immacolata, l'unica immacolata insieme a Gesù. Anche Gesù ovviamente è stato concepito, privo di peccato, originale. Infine, virginità dopo il parto. Sarebbe a dire, anzitutto, questo dogma è negato dai protestanti e dalle varie confessioni cosiddette restaurazioniste come testimoni di Geova, mormoni e compagnia, che Maria non ha avuto altri figli da San Giuseppe dopo la nascita di Cristo. Santo Maso spiega bene la convenienza anche di questa virginità dopo il parto, quando dice come da tutta l'eternità Gesù è il figlio unico del padre, è giusto che sia nel tempo il figlio unico di Maria. Vedete ogni tanto qui sotto nei commenti, quando si toccano questi dogmi c'è qualcuno che dice infastidito del fatto che la teologia tocchi, come dire, un aspetto così intimo come può essere appunto quello della virginità di Maria. Allora qualcuno in maniera provocatoria scrive che la Chiesa si occupa delle mutande di Maria, perché queste persone che scrivono questi commenti non riescono a capire che nel cristianesimo simbolo e realtà sono strettamente legati. La Chiesa non ha indagato questi dogmi per prurito. Lo ha fatto perché nel passato i teologi erano più consapevoli di oggi che tutto nella scrittura è simbolo di realtà eterne, di insegnamenti morali oppure anagogici, cioè rivolti al destino ultimo dell'uomo. Abbiamo visto come tutti questi dogmi in realtà hanno delle ripercussioni per dimostrare la natura divina di Cristo e la realtà del peccato originale, che sono cose di poco conto, perché a seconda di come l'uomo concepisce a se stesso la propria natura, ebbè ci sono diverse conseguenze. Una cosa è ragionare come Rousseau che dice l'uomo nasce buono, una cosa è ragionare invece come il cristiano che dice no, l'uomo nasce corrotto dal peccato originale. Da questi due modi di concepire l'uomo seguono delle conseguenze ben precise, magari nel prossimo video approfondiremo questo aspetto. Allora, ecco, ritornando a Sant'Omaso, Sant'Omaso dice Gesù è il figlio unico del padre. Questo aspetto viene su questa terra nel tempo simboleggiato, rispecchiato dal fatto che Gesù è il figlio primogenito, ma anche unigenito, cioè unico, di Maria. E qui i soliti protestanti dicono no, perché la Bibbia parla, non parla di unigenito, parla di primogenito. Se c'è un primogenito c'è anche un secondogenito e magari anche un terzogenito. Questa è la prima obiezione che usano i protestanti. L'altra obiezione che usano è ci sono i fratelli e le sorelle di Gesù menzionati nel Vangelo, quindi? E poi San Giacomo, che viene costantemente chiamato fratello del Signore. Quindi Gesù aveva fratelli, aveva sorelle. Come ho detto all'inizio, tra l'altro anche qui sotto nei commenti spesso leggiamo commenti di persone, evidentemente di orientamento, protestanti o restaurazionista, con i testimoni di Geova o simili, che ogni tanto dicono voi cattolici scrivete e propagate favole, perché non leggete nella scrittura, nella Bibbia è scritto questo, questo e questo, mi fanno sorridere, perché in realtà queste persone, questi studiosi fai-da-te della Bibbia, questi lettori fai-da-te della Bibbia, si limitano a leggere determinati versetti ignorando sia il contesto dell'intera scrittura, perché la Bibbia è una vera e propria biblioteca, una piccola biblioteca di testi sacri, San Girolamo la chiamava la Sacra Biblioteca, dove tutto si tiene, c'è un filo rosso, tutta la Bibbia in realtà parla di Cristo. Quindi tutto anche nei Vangeli, che sono il cuore pulsante della scrittura, va letto tenendo in considerazione tutti gli altri testi, anche quelli dell'Antico Testamento. I protestanti questo non lo fanno, soprattutto i teologi fai-da-te, come si dice, le persone che si improvvisano, ecco, lettori della Bibbia. E non solo, non sanno neanche leggere, capire il senso delle parole che trovano nel Vangelo, perché le leggono con le categorie dell'uomo moderno. Faremo a breve un esempio. Perché per studiare bene la scrittura, bisogna, tanto per dirne una, non solo conoscere la teologia, che uno può dire la teologia è un derivato della Bibbia, non è una qualcosa che anticipa, potrebbe anche starci questo ragionamento. Però per studiare bene la scrittura, sicuramente vanno conosciute le lingue, bisogna sapere approcciarsi con i testi originali, in ebraico, aramaico, greco. Anche solo il latino di San Girolamo, che è una traduzione fedelissima, andrebbe bene, quello della Sisto Clementina, non tanto la Nuova Vulgata, per ragioni che magari diremo in altri video. Allora, sì, certo che Gesù viene chiamato figlio primogenito di Maria, e non unigenito, ma viene chiamato primogenito perché è un rimando all'Antico Testamento, dove si legge che ogni primogenito sarà sacro al Signore. Quindi l'Evangelista sceglie di usare il termine primogenito perché è un eco della tradizione vetero-testamentaria. E poi, i fratelli di Gesù, ma fratelli di Gesù non sono chiamati così nel Vangelo secondo la carne. Vengono chiamati così perché nell'ebraico antico non esistevano termini appropriati per distinguere i fratelli dai cugini. I fratelli di Gesù vengono chiamati così nel Vangelo semplicemente perché sono i parenti consanguinei di Cristo, ma non sono apparenti nel senso di figli di Giuseppe e Maria. Infatti scrive Domgari Goulagrange, i fratelli di Gesù menzionati nel Vangelo e San Giacomo, che viene chiamato costantemente fratello del Signore, non erano tali che per parentela, secondo il linguaggio del tempo. E la santa tradizione non l'ha mai inteso diversamente. Ma c'è un altro elemento. San Tommaso, nella Somma Teologica, che Garibulli-Granche ovviamente riprende nella sua opera, spiega la dottrina comune, cioè sempre creduta dai cristiani, secondo la quale Maria fece un voto di verginità perpetua prima di conoscere e di sposarsi con San Giuseppe. E la prova di questo è nella scrittura, dove leggiamo nel Vangelo, secondo Luca, nel momento dell'annunciazione, Maria dice all'angelo, come è possibile che avvenga questo? Infatti non conosco uomo, nel capitolo 1 di Luca, versetto 34. Ora, se uno legge queste parole con la mentalità moderna, non sa andare oltre, perché nel linguaggio biblico conoscere l'uomo, conoscere la donna, significa avere una relazione matrimoniale o una relazione anche sessuale. Maria invece dice qui non conosco uomo. Questo in realtà è strano, molto strano, perché in realtà da un punto di vista legale Maria conosceva uomo, perché leggiamo che poco prima l'Evangelista dice c'era una vergine promessa, promessa sposa di un uomo chiamato Giuseppe. Promessa sposa, nella legalità ebraica, il fidanzamento era di fatto già il matrimonio. Si era già firmato il contratto, semplicemente doveva passare un po' di tempo, perché i due sposi, quelli che di fatto erano già sposi, furono passare un po' di tempo per andare a convivere. Ma dal punto di vista legale, i fidanzati erano già sposi. Quindi Maria, in quel contesto, poteva benissimo dire conosco uomo, però come mi è possibile questo, come per esempio fa Elisabetta, come fa per esempio, chiedo scusa, Zaccaria, che non si stupisce dal punto di vista legale dinanzi all'annuncio dell'angelo. Ecco, Maria invece ha potuto dire non conosco uomo, perché? Perché evidentemente, come era tra l'altro Prassi, nel mondo ebraico del tempo di Gesù, aveva fatto voto di una verginità perpetua. C'è una tradizione, tra l'altro, che ci dice che anche San Giuseppe fece un voto analogo. Questa in realtà ci spiega perché poi San Giuseppe e la Madonna hanno contratto comunque legalmente un matrimonio, ma abbiamo deciso di continuare a rispettare questo voto, entrambi questo voto di verginità perpetua. E in effetti, se ci pensiamo, è il contesto migliore per crescere non un bambino qualsiasi, ma quello che è il figlio di Dio, che era chiamato a diventare il salvatore dell'intera umanità. Spero che questo video possa essere risultato di vostro interesse. Vi ricordo di acquistare allora il libro di Reginaldi Larigula Grange, La madre del salvatore, La nostra vita interiore, direttamente sul nostro e-commerce www.fedecultura.com. Trovate il link del libro sia in descrizione di questo video, sia nel primo commento sotto questo video fissato in alto, oppure alla fine di questo video, nell'iconcino dove vedete in piccolo la copertina del libro, voi ci cliccate sopra e venite subito rindirizzati sulla pagina del libro sul nostro sito. Il modo migliore per sostenere il nostro apostolato, come vi ripeto sempre, è quello di acquistare direttamente online, direttamente dal nostro sito. Il modo migliore per sostenere il nostro apostolato in difesa della cultura, dell'intelligenza e della bellezza cattolica. Grazie per la vostra attenzione e noi ci vediamo per un prossimo appuntamento, sempre qui sul canale YouTube di Fede e Cultura. Grazie, buona serata! Cari amici di Fede e Cultura, vi ricordo che abbiamo avviato una raccolta fondi per pubblicare l'autobiografia del grande sacerdote Stanley Yaki, La materia di una mente. In home page sul nostro sito trovate nella sezione in evidenza per voi la pagina prodotto di questo libro, che per ora è ancora un progetto e che potrete sostenere acquistando il libro nel formato che trovate sul sito cartaceo con donazione. Il vostro generoso contributo ci aiuterà a diffondere la conoscenza di questo grandissimo storico della scienza cattolico, padre Stanley Yaki. Grande benedettino, grande scienziato, Stanley Yaki ha saputo dimostrare che scienza e fede cattolica non sono incompatibili, ma sono le due ali che elevano la nostra mente verso Dio, che ci garantiscono una comprensione migliore della nostra vita e della realtà meravigliosa che ci circonda. Sostieni anche tu il progetto La materia di una mente, l'autobiografia intellettuale di Stanley Yaki, sul nostro sito www.fedecultura.com. www.fedecultura.com.br www.fedecultura.com.br www.fedecultura.com.br